È una leggenda o è vero il muro dei 35 chilometri? No, non è una leggenda. È come se esistesse un muro dove si può sbattere oppure se ti sei allenato bene diventa invisibile e lo perfori. Ne parlavo prima, dipende soprattutto da come metabolicamente gestiamo la maratona. Ho inventato il metodo, in una storia l'ho descritto, del grattevinci. Esistono tanti metodi per affrontare la maratona. Il metodo agonistico, il metodo del maratoneta, il metodo del Forrest Gump, il metodo del mezzofondista, il metodo del maratoneta puro. Ma il metodo esiste anche del grattevinci. In cosa consiste questo metodo del grattevinci? L'ho detto prima, forse non è ricollegato. Nel fare pochissimi chilometri è nell'incontrare il muro non al 35esimo ma al 20esimo dove si inizia a camminare, dove la maratona la finisci e se non hai tanti chilometri incontri il muro ma non solo. Alla fine della maratona non vuoi più correre. Oggi veramente sono anche un po' come dire stanco perché a livello culturale tutti quanti conosciamo i benefici della corsa sia a livello mentale, a livello fisico, a livello energetico. dimostriamo di meno dell'età che abbiamo, siamo più forti, siamo più brillanti se dobbiamo tenere un esame o dobbiamo andare a lavoro se ci alleniamo la mattina. Però non corrono tutti. Però tutti hanno sperimentato la corsa. Che significa questo? Significa che tutti l'hanno sperimentata, cioè la maggior parte l'ha sperimentata, ma non l'ha sperimentata in modo corretto. Ci sono tantissime tipologie di atleti. Il recordman o l'atleta agonista. Ti posso fare proprio degli esempi lampanti e che anche tu hai la possibilità di conoscere e vedere ogni domenica. L'esempio del recordman è l'esempio simpatico che faccio dell'atleta che corre per tre anni a 3.30 perché magari scopre la corsa a 30 anni, è dotato, è veloce, poi inizia a vedere che non riesce dopo il primo infortunio a correre a 3.45 e si inizia a demotivare, inizia ad ingrassare. Corre a 4 la gara, gli amici iniziano a dire ma cosa sta succedendo, perché corri a 4? Correvi a 3.30, l'atleta molla. Perché la sua priorità era la priorità nevrotica dell'agonismo. Questa è la prima cosa che mi fa arrabbiare. Poi c'è l'atleta che è quello stagionale, l'atleta che vuole dimagrire, chiamiamolo l'atleta ma è chi si avvicina alla corsa in modo sbagliato, è chi vuole dimagrire e non supera la parte propedeutica, cioè la parte che ti fa stare bene. Consigliato magari da chi propina pochissimi chilometri a settimana, che magari non ha studi scientifici a riguardo, che confermano quanto un allenamento sotto i 50-60 chilometri a settimana, e non lo dice Francesco Guerracocci, ma lo dice l'Università di Harvard, non porta benefici all'organismo. Quindi sotto i 50-60 chilometri a settimana, facciamo low training, che significa? Facciamo basso allenamento, puniamo il nostro organismo due-tre volte a settimana. Il risultato qual è? Il risultato è che, se facciamo una maratona da non allenati, odieremo la maratona. Finito il periodo di dimagrimento, sono dimagrito, ma ora ingrasso tanto in estate, poi rivado a dimagrire, magari non corro più, ma faccio spinning. Quindi, il metodo è la cosa più importante. Dalla maratona ai 10 chilometri, a correre semplicemente per star bene. Se abbiamo un metodo, che non è per forza il metodo di Francesco, ma è un metodo scientifico, ci divertiamo e corriamo. Il muro esiste, ma se ci alleniamo, alleniamo la macchina a fare tanti chilometri, e ad utilizzare un carburante necessario per arrivare alla fine della maratona, che è il carburante lipidico, quindi a cambiare la nostra macchina. Al giorno d'oggi ci sono tantissimi atleti veloci, ci sono stati, forti fino ai 10.000 alla mezza maratona, che non si sono mai cimentati nella maratona, perché geneticamente, a livello strutturale, a livello mentale, non sopportavano la distanza. Ma se ci alleniamo, ovvio noi non dobbiamo performare come loro, perché parliamo di atleti da 27 minuti su 10.000 che chiaramente hanno aspettative, in base al potenziale, di 2 ore e 10 in maratona. Ma se vogliamo diventare maratonetti, vogliamo divertirci, non vogliamo trovare il muro, dobbiamo allenarci in modo sensato. Il metodo è la cosa più importante, la didattica è la cosa più importante.